esatto ho due mini di prossimità e tre granate in ogni caso per il momento ne faccio a meno qua potrei provare grande hai diventato il mio alleato forte eh, non hanno proprio speranza contro il mio Big Daddy c'è gente da sotto vediamo un po' cosa dice questo sappiamo cosa ti sia successo gli uomini di Ryan ti hanno portata via dicendo che eri necessaria per la salvezza di Rapture ma come fa una bambina a salvare una città? ma vedo quelle ragazzine sbucare da quei condotti spero solo che un giorno tu possa sbucare da questo e trovare questo appunto ti cerchiamo ma se puoi raggiungici al Fighting McDonald's stanza 7 il codice d'entrata è 7533 ci mangi il tesoro ok quindi in pratica se ho capito bene rappivano le bambine per farne delle sorelline allora boat shoot down i pannelli di spegnimento di robot sono usati per disattivare i sistemi di allarme o robot della sicurezza allertati usare un pannello di spegnimento di robot costa 20 dollari non lo si può forse non lo posso usare perché non è allertato credo no 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 non c'è nessuno questo cosa dice? questo fontenbo ha tenuto d'occhio un tempo era soltanto un pericolo da condannare e impiccare ma riesce sempre a trovarsi lontano dalle probe è un bandito del tipo più pericoloso un visionario ok dovrei essere in grado no non ci arrivo quindi devo l'unica cosa che posso fare è cercare di evitare quelle telecamere non ho visto dove si trovava l'altra però eccola eccola questa la posso aggirare però sempre che io riesca a trovare i pezzi di tubo necessari all'aggiramento ovviamente ok si trovano sempre un sacco di di bibbie in giro e mi sembra strano per il posto in cui ci troviamo ok la macchina fotografica assomiglia a quelle che si vedono di sopra secondo questo articolo che mi sono procurato può anche analizzare informazioni genetiche esaminare strutture biologiche e un sacco di altri parole ai 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 vediamo un pochino esatto la torretta via 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 ce la farò ad aggirarlo no maledetta torretta ok dunque 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 se vado di qua è a posto bene bene non vorrei incappare in qualche telecamera bene aggiriamola vediamo un po' se riesco ad aggirare questo macchinario bene lasciamo il combinante è andata male amico bene dei kit medici che era proprio ciò che avevo bisogno e potrei usare nolle mie di prossimità qualche granata ottimo riequipaggiamo il nostro bel fucile a canne mozze ok da qua è da dove siamo arrivati ok da qua è da dove siamo arrivati porca miseria io mi nascondo aggiriamo aggiriamo ok così e poi verticale mi farebbe mi farebbe comodo un altro in verticale oppure uno così va bene a posto wow parecchie armi qua parecchie armi qua ma senti non sono solo io a fare le leggi qui io le faccio solo rispettare ma non sono venuto a rapture per appendere gente per semplice contrabbando raya nei suoi possono tenersi le loro leggi o tenersi il mio destino ok quindi questo Sullivan era il capo della sicurezza e evidentemente sono andati hanno esagerato un po' con le norme di sicurezza e con le pene credo dare l'impiccagione a dei contrabbandieri oh beh abbiamo un po' di razzi a ricerca di calore proiettili anti uomo non male come bottino ok qui dovremmo trovare la macchina fotografica credo c'è anche una camera della vita ce l'ho al massimo? incredibile Gesù mi ama lo so perchè lo dice la bibbia le piccole vanno da lui loro sono deboli ma lui è forte perchè fai sempre così? ok scatta foto di nemici con la macchina fotografica per effettuare una ricerca su di essi a ciascun tipo di nemico corrispondono bonus di ricerca specifici prova a scattare una foto del ricombinante tenendo il soggetto vicino e al centro dell'inquadratura e la macchina fotografica ora procurami delle belle fotine di quei ricombinanti razzo e non tornare qui finchè non avrai la mia ricerca allora ricombinante ragno progresso ricerca bonus di ricombinante ragno aumento del danno più i ricombinanti ragno sono vulnerabili ai proiettili anti uomo secondo te sono così quindi per fare le foto anche a chilometri sott'acqua vede tutto oh avanti su e se arrivo alla fine del ma non me l'ha più dato peccato ok si andiamo ancora un pochino avanti ricombinante guerrigliero vediamo i proiettili anti uomo eh eh hai sfidato il tipo sbagliato sei la forma di terra vediamo se riesco a questo qua vediamo se riesco a questo qua le telecamere le telecamere di sicurezza sono vulnerabili ai proiettili perforanti e ai danni da elettricità ferraglie del cazzo nessuna foto scattata ok quindi non posso andare oltre qui abbiamo un plasmide quelle dannate telecamere di sicurezza ti fanno impazzire attacca gli speciali insetti fotoelettrici ai tuoi nemici telecamere e torretti diverranno i tuoi migliori amici installa subito attira sicurezza che lo metterò al posto di che lo metterò al posto di eh alla fine incenerimenti è quello che uso meno ragazzi inganna il sistema di sicurezza scatena robot e torrette di sicurezza contro i nemici questo non è male come eh eh molto bello ok avrei potuto scattare una foto a quel a quel drone tiriamolo giusto perché non ho voglia di 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 rischiare ok e poi uno verticale lo mettiamo qua e uno orizzontale qua a posto non ho bastanti uno soldi chiuso su ordine di capo del capo scalo non ho bastanti uno soldi ne lascia anche un big daddy potrei provare a far fuori quel big daddy di prima ok ok vediamo cosa diceva ci mancava questa sembra che ci sia una falla anche nel nostro sistema idrico proprio così il sistema di irrigazione dell'arcadia sta pescando acqua salata avevo detto a mister ryan quando stavamo costruendo quel posto che o si strutturava come una vasca da bagno o sarebbe diventato una fogna no mcdonald ha detto non stiamo costruendo vasche da bagno stiamo costruendo l'eden ok aggiriamo questo questo questa stazione della salute purtroppo ragazzi giocando a difficoltà elevata non posso farci più niente mi tocca a cercare di potenziare queste torrette cercare di aggirarle per poterle usare con meno soldi non ce n'è più eh ok a posto va bene ragazzi allora mi fermo qua vi ringrazio come al solito per le visualizzazioni e ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao